Sindaco, la biblioteca esce dall'immaginario comune, quasi un po' romantico, cinematografico, di luogo silenzioso, di luogo dedicato ad un determinato tipo di utenza e diventa invece un luogo pieno di fermento, un luogo rumoroso, addirittura un luogo anche per i bambini. Sì, oggi siamo in una sala particolarmente nuova perché mai forse avremmo pensato di vedere una sala lettura completamente dedicata ai bambini in un luogo pubblico con addirittura un piccolo cinema all'interno. La logica di questo progetto è creare una biblioteca che sia anche centro di aggregazione e di promozione della cultura in generale, proprio nel cuore di quella movida da alcuni tanto criticata, che invece oggi si integra perfettamente con un'offerta culturale che vede, correntemente a quello che avevamo detto in campagna elettorale, un'apertura anche serale dei contenitori culturali, ma soprattutto contenitori culturali che diventano un teatro di eventi e di promozione anche del territorio, anche in un'ottica di valorizzazione turistica. Quando abbiamo pensato a questo progetto con l'assessore Mangini abbiamo subito immaginato che questi fondi europei che abbiamo intercettato, nello specifico quasi mezzo milione di euro solo per la biblioteca comunale, potessero servire proprio per allestire e trasformare la biblioteca comunale in un centro propositivo importante.